La prima cosa è San Siro, vedo che c'è il sindaco collegato, sono un po' emozionata, ma tanto so che rimarrà per poco come al solito. Sono interista, io non faccio parte della categoria che dice dobbiamo tenere per forza lo stadio San Siro così com'è, per sempre. Io sono una mamma di due figli, mi capita di andare allo stadio, io voglio uno stadio che sia sicuro, fruibile e sono una donna moderna del 2021. Però è proprio lungimirante andare a attaccare le società sportive. Lo dico perché se fossi un soggetto a governo della città, cercherei di pensare allo sviluppo della città e di un dialogo costruttivo con le società di calcio. Così non è, ma oramai probabilmente quando uno raggiunge certi livelli di boriosità, poi pensa di poter sparare su tutto e tutti ed essere al di sopra di tutto e tutti. Un po' di sana umiltà sinceramente farebbe bene a tutti, a me sicuramente, ma anche a lei caro sindaco Sala, ma sono sicura che il bagno di umiltà glielo faranno i cittadini a Breven. Grazie.